Maria Antonietta Pugliese, presidente della Proloco di Tropea, una proloco sempre protagonista in questa splendida location, Borgo dei Borghi, dove grazie all'amministrazione si sta cercando di destagionalizzare l'offerta turistica e la presenza sul territorio. Sì esatto, siamo giunti alla quarta edizione del Tropea Villaggio di Natale 2022 e la nostra Proloco anche quest'anno partecipa con collaborazione nell'organizzazione del villaggio e anche quest'anno confermiamo la partecipazione in alcuni eventi, sostenendoli anche economicamente, ma in particolare ci occupiamo dell'assistenza a tutti coloro che vogliono visitare il nostro borgo, è possibile anche organizzare delle visite guidate ma quello che più ci preme è raccontare la magia del Natale nel nostro borgo, quindi anche un viaggio così esperienziale fra il profumo del bimbrulè, delle zeppole, le mercatini di Natale, la visita delle piazzette caratteristiche addobbate a festa, una serie di iniziative dedicate ai bambini, quindi animazione per bambini, teatro per bambini con la collaborazione del Teatro della Maruca di Angelo Gallo e in generale una serie di carezze per il Natale per i nostri bambini. Un caro saluto a tutti, vi aspettiamo a Tropea!